Ciao a tutti, questo è un secondo video riguardo la combinazione paladino-warlock-stregone su Dungeons & Dragons 5 edizione. In questo caso vedremo un po' le combinazioni che si possono fare a livelli successivi. Nei precedenti video abbiamo visto il personaggio a livello 1, 2, 3. Al primo livello saremo paladino, al secondo diventeremo warlock e al terzo diventeremo stregone. Ai livelli successivi si possono iniziare a fare le combinazioni che sono estremamente potenti. La prima combinazione più facile da fare è prendere tre livelli di warlock. Questo ci permette di fare la combinazione oscurità e vista del diavolo. Questo ci permette di lanciare l'incantesimo oscurità e noi saremo in grado di vedere all'interno di questo incantesimo. Quindi non saremo soggetti alle negatività dell'incantesimo oscurità. Questa è una delle combinazioni più facili. A livelli successivi potremmo iniziare a fare la combinazione con le multiclassi. Per esempio potremmo fare una combinazione stregone-warlock. Con due livelli di stregone e uno o due livelli di warlock potremmo fare il famoso coffee lock. Questo ci permette di utilizzare la capacità dello stregone di creare punti stregoneria a partire dagli slot incantesimi. Useremo gli slot incantesimi del warlock che si ricaricano dopo un riposo breve per creare slot incantesimi dello stregone. Meglio non abusare di questa tecnica molto perché è molto rischiosa. Si rischia di andare contro il dungeon master e non è una cosa bella. L'altra combinazione che è a livelli ancora un po' più alti è la deflagrazione occulta a mitraglia. Io l'ho chiamata così perché potremmo usare la deflagrazione occulta due volte nello stesso turno. Quindi ci servirà avere stregone livello 3 perché al terzo livello potremmo ottenere la metamagia e se prenderemo l'incantesimo rapido potremmo lanciare una deflagrazione occulta con il primo incantesimo e poi utilizzare una seconda deflagrazione occulta utilizzando l'incantesimo rapido per rendere l'idea deflagrazione occulta un'azione bonus. Quindi in questo modo lanceremo la deflagrazione occulta addirittura due volte. Come sappiamo la deflagrazione occulta si divide in diversi raggi a seconda del livello quindi a livelli ancora più alti i numeri di attacchi che si saranno fatti con questa mitragliatrice di deflagrazione occulta saranno ancora di più. L'ultima combinazione di cui voi voglio parlare è la super punizione divina. Questa ci richiede due livelli di paladino per avere la deflagrazione punizione divina e cinque livelli di warlock. Cinque livelli di warlock poi potremmo utilizzare l'invocazione punizione oscura. Questo ci permette di, consumando tantissimi slot incantesimo, lanciare una punizione divina con lo slot del paladino, una punizione oscura con lo slot del warlock e un incantesimo punizione come una punizione incandescente o quella che avrete con lo slot del stregone oppure ancora un altro di quello del paladino. Questo ci permette di lanciare tre punizioni in un solo attacco e sarà un danno devastante perché ognuno aggiungerà parecchi punti per inchida di danno. Quindi queste sono alcune delle combinazioni che potete fare con il mio personaggio. Spero che vi piaccia e successivamente vi mostrerò cos'altro si può fare a livelli ancora più alti. Come per esempio, arrivando a stregone livello 5, come ho già accennato precedentemente, si può ottenere guardiani spirituali. Si può combinare questo con l'aura del paladino, si può combinare con il warlock e ci sono numerose combinazioni che possono essere molto utili. Spero che vi piaccia, grazie mille e farò altri video successivamente. Grazie.